Cattive notizie per Bezzecchi e il suo team VR46. Durante un allenamento il pilota è rimasto ferito, e ha ottenuto una frattura alla clavicola. Sarà azionata nelle prossime ore. Bezzecchi salterà quindi il GP dell'Indonesia. Il primo di un trittico che fornisce poi L Australia e Thailandia Marco Bezzecchi ha avuto infortunio alla clavicola durante un allenamento di sabato 7 ottobre al Tavullia Ranch per pilota è. Una frattura e nelle prossime ore. Già domenica 8 ottobre. Subirà intervento di osteosintesi. I comunicati stampa della squadra. Bezzecchi a questo punto salterà almeno il viaggio nell'Indox del prossimo fine settimana. Primo del trittico che include Australia e Thailandia nei due fine settimana successivi. Un vero disastro per Bezzecchi che nella classifica mondiale terzo ha 54 punti dal leader. Il suo amico pecca bagnaia. Ma è anche un vero disastro per la squadra Luna VR46 che priva di Luca Marini dal GP dell'India. Anche convalescente dopo una frattura alla clavicola rimossa in un incidente solo con. Bezzecchi all'inizio della gara sprint. In questo momento è davvero difficile immaginare come e con cui pilota la squadra di Valentino. Rossi potrebbe presentarsi in Indonesia.